Musica Oggi vi presentiamo Smile Life, un progetto Ollus finalizzato all'integrazione sociale di bambini e ragazzi problematici attraverso discipline motorie e attività musicali pomeridiane. Per accedervi i ragazzi dovranno sostenere la spesa di 5 euro per la tessera di iscrizione e altrettanti per l'assicurazione di ognuno. I corsi sportivi verranno realizzati da ragazzi volontari che insegneranno a quelli portatori di handicap con regole semplificate, pallavolo, calcio, percorsi prestabiliti, ping pong e molto altro ancora affinché si crei un gruppo coeso. I corsi musicali serviranno per stimolare i loro sensi, le loro emozioni e per far trasferire i loro sentimenti. Verranno utilizzati strumenti musicali di seconda mano comprati su internet, come pianole, tamburi, xilofoni e molto altro ancora. Verranno utilizzati inoltre materiali riciclati che riproducono suoni. Grazie a tutti. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti